Hi! Luciani Game, V2, Giovanni Lociforo Master 45 Master 45 Perfetto Vediamo i pesi del Dumble 22 e mezzo Rower Concept 2 Ok, Giova quando ci sei dimmi Andiamo a zero Qua c'è uno solo a zero Vado? Sì, fermo 3, 2, 1, via Vai Ciccio, dai eh Respira bene Ah, andrà al ritmo con le Queste sono due gigante Pesa 100 kg, altro 1,90 m Respira 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 Bravo Bravo andando bene Giovan dai Giovan su bravo 2.50 Giovan 2.50 Giovan 2.50 Giovan 2.50 Giovan Tugas Tugas a farla farla grazie Pito dai Nino dai Nino non molare eh dai l'ultima buono Nino uno due tre bravo Nino bel ritmo quattro cinque sei sette otto nove dieci bravo già va undici dodici tredici quattordici quindici sedici dici 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 diciotto dici c'è neve venti ventuno ventidue ancora tre minuti eh vecchio quindi vai bene dai ventitre alla morte respira ventiquattro bravo dai dai venticinque dai gli ultimi cinque gli ultimi cinque Dado dai dai 26 27 28 29 l'ultimo 30 buono buono 1 2 alternativi no? 3 3 con questo l'altro non lo conto 4 5 quindi sono 6 va bene 7 8 9 10 non appoggiarti nino quando sali 11 12 13 14 15 16 17 18 19 dai l'ultimo la mano lontana 20 boom c'è un minuto e mezzo per fare 10 traster eh facili eh li chiudi facili 5 35 adesso dai 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 grazie bravo bravo ciao veno no si fui Grazie.